A Venezia tutto esaurito, gli albergatori veneziani comunicano un boom di prenotazioni per l'imminente fine settimana di Pasqua, cosa che non immaginavano date le previsioni del brutto tempo in vista già da domani. Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, comunica soddisfatto che la quota di prenotazione solo ad oggi per gli alberghi da 3 a 5 stelle è vicina al 90% delle disponibilità alberghiere e crede che si possa arrivare al tutto esaurito con le prenotazioni last minute, che dovrebbero comprendere gli affitti a camere e gli hotel a 1 e 2 stelle. Insomma, splendide notizie se si considera che il ponte di Pasquetta inaugura l'alta stagione a Venezia. Questi numeri, infatti, danno speranza nel settore alberghiero per la stagione 2014, dopo che il settore ha registrato una falsa partenza nel periodo di carnevale. Scarpa sostiene inoltre che questa dovrebbe essere una buona annata sul piano turistico per la città. Purtroppo, con l'arrivo di molti turisti, si registra anche un aumento dell'abusivismo degli ambulanti, sempre più invadenti che proprio in questi giorni sono sotto accusa, perché ostacolano le visite dei turisti sui ponti. A questo proposito, il presidente della regione Luca Zaia ha dichiarato che questa è una situazione inaccettabile e che mette in difficoltà i turisti rovinando anche l'immagine di Venezia.